amiche ed amici buonasera ben ritrovati ancora ad una nuova puntata di sport life un nuovo appuntamento come ogni martedì per parlare delle attività che più ci piacciono a 360 gradi con ospiti e con approfondimenti oggi è una puntata particolare perché la dedicheremo praticamente in maniera quasi totale al ciclismo a breve però dovremo chiaramente presentare la partita del futsal perché al palamalfatti alle 20 si gioca partita di campionato infrasettimanale quindi ci collegheremo con matteo dionisi nostro collaboratore ed amico non perdiamo tempo e chiaramente entriamo nel vivo della trasmissione innanzitutto salutando i nostri ospiti a partire da vincenzo amaru della velino mtb rieti buonasera a tutti ben trovato è un piacere averti ospite grazie dell'invito doveroso doveroso per parlare di ciclismo e non solo perché poi ci sono delle attività collegate che vogliamo promuovere così come era doveroso invitare sempre per parlare di ciclismo anzi nella sua sfumatura dell'ultra cycling cristian bianchetti ciao cristian buonasera buonasera a tutti ben trovato grazie grazie per esserci e ovviamente con te insomma abbiamo parecchio da affrontare così come ce l'abbiamo con con vincenzo allora tra pochissimo ci colleghiamo con il palamalfatti mentre la regia insomma si collega con via padronetti io vado subito da vincenzo perché dobbiamo rilanciare un appuntamento che è l'appuntamento dell'appuntamento nel senso domani la velino mtb rieti presenta un'iniziativa importante senza scendere nei particolari e soprattutto magari a chi è dedicata però rinnoviamo l'appuntamento di domani alle 15 e 30 nella sala consigliare del comune ci sarà una conferenza stampa per per illustrare presentare due eventi la babbo bike e il premio alessandro salustri sport fonte di ispirazione questo insomma è quello che domani la velino mtb proporrà ai proporrà gli appassionati in particolare subito alla stampa e ve ne daremo conto ma tra poco entreremo nello specifico perché avete sentito un nome quello di alessandro salustri a cui è dedicata la manifestazione qui chiaramente non possiamo certamente glissare ma dobbiamo approfondire mentre cristian arrivi da una stagione ricca ricchissima però io subito vi faccio una domanda che cos'è l'ultra cycling guarda l'ultra cycling è una frontiera del ciclismo dove di base si superano i 300 chilometri di cara o le 24 ore in sella a che fare con il ciclismo solo per il mezzo meccanico se sei su una bicicletta ma poi devi affrontare molti più ostacoli li chiamano così la privazione del sonno l'alimentazione la gestione della gara la navigazione perché comunque sia le gare le più corte sono da 550 chilometri e ci sono dislivelli molto importanti che vanno dai 10.000 14.000 metri di dislivello paragonandolo al terminillo 10 14 terminillo durante questi chilometri una delle più facili è stata magari la prima che aveva 7.000 metri di dislivello ma era 1240 chilometri lunga si partiva da pescara si faceva tutta la puglia si ritornava in su c'è una promozione dell'ultra anche nella penso al running penso all'atletica che adesso sta penso a lo sole spartan race cose di questo genere che c'è una promozione dell'ultra che sta andando molto di moda non so a che cosa è dovuto come te lo spieghi magari sembra come se non bastasse mai il limite dell'uomo raggiunge quindi devi sempre andare oltre il limite dell'umano perché poi è un anno che faccio parte di questa famiglia dell'ultra cycling sono veramente un manipolo di pazzi tra cui ci sono anche adesso ma sono persone squisite splendide veramente siamo una famiglia e condividiamo questa passione che poi diventa una come una fase di vita non so cosa scatta nella testa per iniziare a fare questo sport perché se me l'avessero detto quattro anni fa tu un giorno farai 400 500 chilometri io in genere ci saresti battuto in testa siete pazzi al centocinquantesimo chilometro in genere prendono la bici la butto nella scappata è una cosa che è veramente fuori di testa poi scatta qualcosa che il limite superare il limite io ho iniziato per superare il limite di mio padre perché mio padre aveva un record aveva fatto 365 chilometri in un giorno e io per scherzare l'altro anno che ti batterò si ti batterò e feci un 405 chilometri mi è piaciuto molto questa cosa poi anche affrontando magari delle gare che invece di fare un giro solo facevamo due giri con degli amici iniziava ad allungare nacque un po così poi però presi un po più sul serio la sfida ha detto voglio cimentare proprio una cosa agonistica e allora tra poco chiaramente parleremo dei risultati parleremo dei risultati di cristian in questo in questo 2019 non so chiedo la regia se siamo pronti con il con il collegamento altrimenti andiamo avanti con con i nostri ospiti mi fanno cenno ci siamo col collegamento che bello grazie luciano allora prima di tornare ai nostri ospiti collegamento con il palamalfatti perché l'eventi si scende in campo real rieti came d'osson in collegamento il nostro matteo d'onisi ciao matteo buonasera ciao ciao cristian buonasera anche agli ospiti studio allora è chiaramente il real rieti pur con pesaro che deve recuperare delle partite primo in classifica stasera sfida con came d'osson raccontaci l'atmosfera matteo si praticamente mancano pochissimi minuti al fischio finale il palazzetto è pronto e carico per questa partita importantissima di campionato come hai appena detto tu il real ha l'opportunità stasera di rimanere in vetta la classifica distaccando pesaro di ancora tre punti che si deve recuperare delle partite poi la prossima settimana ci sarà il tanto atteso scontro diretto in casa del pesaro e intanto però il real ha vinto con l'acqua e sapone meritandosi pur virtualmente visto che comunque il pesaro deve recuperare una partita meritandosi la la vetta della classifica assolutamente sì la gara della scorsa settimana ha dato una grandissima iniezione di fiducia alla squadra di patron roberto pietro paoli e stasera sicuramente si riconfermerà qui in casa al palamalfatti è questione di minuti cristian e poi il real darà sicuramente spettacolo come ha fatto nelle precedenti partite chiaramente ti leggeremo e vedremo le foto di gialluca vannicelli al termine della partita più o meno le 22 o giù di lì ti chiedo una cosa come vedi questo duo jeff e kundari e se jeff torna in campo no questa sera jeff è la prima volta che lo vedo con l'abito da allenatore giacchi e cravatta sinceramente fa anche un certo effetto meraviglioso meraviglioso sì questa sera sarà in panchina perché torna ramon che nella precedente gara non c'era era squalificato la fascia di capitano la prenderà raffigna diciamo per anzianità da come abbiamo abbiamo provato a verificare verso gennaio jeff dovrebbe iniziare il decorso per diventare un allenatore a tutti gli effetti quindi ha sposato in pieno la causa di diventare il prossimo allenatore delle real a tutti gli effetti ecco all'eventi real rietica medosson buon lavoro matteo de onisi e più tardi chiaramente con gli aggiornamenti su rieti live grazie a te ciao cristiano ciao buonasera ringraziamo chiaramente matteo de onisi così come ringraziamo gialluca vannicelli per le immagini in diretta che arrivano proprio dal riscaldamento del real rieti torniamo a parlare di ciclismo vincenzo abbiamo annunciato ciò che sarà domani ma poi entriamo nel dettaglio intanto chiedo per chi non mi conoscesse in poche parole come riassumeresti attività della mtb velino rieti ma noi fondamentalmente siamo un gruppo di amici ok gruppo di amici che condivide questa passione per la mountain bike ma soprattutto condividiamo la volontà di stare insieme la voglia di stare insieme le uscite in bicicletta sono quasi una scusa andiamo in bici facciamo delle piccole gare delle piccole manifestazioni ma sempre con lo scopo di condividere in allegria qualcosa che ci rende felici certo insomma si fa certo non è professionismo insomma si fa per passare il sabato la domenica per fare una trasferta più o meno lunga la gara più lontana che la velino la mtb velino si concede dov'è la gara più lontana importante a cui il velino partecipa il sella ronda hero è una gara alla quale hanno partecipato molti degli iscritti al velino e quest'anno verrà confermata questa partecipazione perché era la gara preferita da alessandro era la gara che alla quale alessandro era più legato che fascia d'età diciamo si tocca nel nel velino e soprattutto quanti siete siamo un circa 40 e la fascia di età varia dai 30 ai 60 dai 60 anni ecco quindi diciamo giovanissimi non ce ne sono no giovanissimi non ce ne sono e questo è quasi un rammarico che vorremmo coinvolgere i ragazzi strutturare un discorso tipo scuola di mountain bike e quant'altro ma attualmente non abbiamo la nella forza e nella struttura per farlo o chiaramente come tante attività magari si fanno per passione si 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 va alle gare però magari ci si deve preparare un po da soli durante la settimana cioè come funziona allenamento di un vostro atleta e di in generale di un'associazione direttantistica perché poi questo di questo si trappa si appunto noi abbiamo questo questa definizione amatori ciclisti amatori e usciamo quando possiamo dopo il lavoro sempre salvaguardando gli impegni che ci legano le famiglie e quindi il tempo è molto limitato la nostra preparazione è basata soprattutto sull'uscita che facciamo insieme non seguiamo programmi o nulla di specifico e andiamo alle gare appunto solo per divertirci e stare insieme incontrare i gruppi che negli anni abbiamo conosciuto perché ne abbiamo conosciuto e beh poi si fa amicizia in giro insomma si conoscono anche realtà si può copiare tra virgolette un'esperienza una un assetto no un'organizzazione che può tornare tornare comoda immagino sì sì proprio questo è lo spirito che ci ci guida quando andiamo in giro cercare di dare uno sguardo alle realtà che non conosciamo rubare con gli occhi rubare con gli occhi ma anche vivendola perché poi alla fine diventando amici di questi altri amatori certo riusciamo a vivere le loro situazioni sociali cristian e vincenzo si conoscono condividendo la stessa passione con sfumature con sfumature diverse mentre loro sono 40 si allenano comunque sempre da amatori cristian bianchetti che da solo e fa l'ultracycler come organizza la sua settimana la sua giornata i suoi mesi la sua stagione la mia settimana organizzata praticamente tutta la settimana in sella togliendo purtroppo tempo alla famiglia al lavoro perché per approcciare a questo sport comunque sia la cosa basilare sono le ore di sella e minimo 26 30 ore a settimana sono un altro lavoro la base è un lavoro cioè questo nacque dall'altro anno che mentre parli tanto vanno in onda delle immagini che ci hai portato delle tue esperienze di questa stagione di cui tra poco parliamo scusami cristiano interrotto questa addirittura è l'ultima gara di stagione era il 29 settembre per me è stato un bel finale è stata una 24 ore a treviso vinta una gara tipica perché in genere l'ultracycling sono in linea questa era circuito in cui dove 24 chilometri con 440 metri di dislivello da percorrere sono riuscito a percorrerlo 26 volte per un totale di 600 20 640 chilometri con oltre 10.000 metri dislivello questo era il giro finale e ti assicuro è stata la gara più snervante della mia vita perché dietro avevo un austriaco che si chiama edward fuchs è un molto blasonato a livello europeo e l'ho avuto sempre a due minuti per tutto per le prime 14 ore e le prime nove ore non abbiamo scherzato perché abbiamo fatto i ritmi 30 orari di media con 4 mila chilometri metri di dislivello i primi 260 chilometri abbiamo fatto veramente a sportellate in gergo motociclistico però è stata una soddisfazione perché è una vittoria giunta il 29 settembre data a me cara perché come il titolo di una canzone di lucio battisti e la mia stagione quest'anno è iniziata proprio il 10 maggio con un everesting appoggio bustone piccolo inciso mi permetto cristian bianchetti conosciutissimo in città per la sua attività sportiva però cristian è anche un appassionato di musica e un cantante quindi musicista cantante così che sia chiaramente non voglio non voglio sbagliare la cosa ecco perché collega battisti date di canzoni e non solo no perché è stato curioso sono risalito in sella molto tardi quest'anno perché ho avuto un incidente l'altro anno al mio battesimo dell'ultracycling quello in puglia dei 1200 chilometri peraltro vincente a mia grandissima sorpresa e sono voluto risalire in sella proponendo visto che era il cinquantesimo anniversario dell'uscita del primo album di lucio battisti ho detto provo a fare un everesting appoggio bustone cos'è l'everesting diciamo un concept che tu prendi una salita la fai tante volte fino a raggiungere il proprio il dislivello del monte everest che sono 8848 metri avevo calcolato che facendolo 22 volte appoggio bustone dal atterraggio del volo libero fino al santuario di san giacomo avrei raggiunto gli 8848 22 che sono le volte le discese ardite le risalite le risalite battisti ho poi scoperto che che erano il numero dei 45 giri pubblicati proprio da lucio battisti quindi c'è stata una cabala torna a tutto e indagando ho scoperto che lucio battisti anche 3 45 giri inediti che non sono usciti che ho voluto onorare quindi l'ho fatta 25 volte questa salita raggiungendo poi la il dislivello di 10 mila metri che mi ha consentito un po di allenarmi per quello che sarebbe stata la romagna race di 20 giorni più avanti con 14 mila metri di dislivello ma di entrare in una diciamo idol rulers society adesso in inglese non sono bravissimo e ferratissimo ci vorrebbe simona martellucci a spiegare la situazione ma ecco questo vedi facendo 10 mila metri di dislivello verticale entri hai un brevetto particolare oltre a quello dell'everesting chiaramente sono allenamenti quelli tu percorri 324 chilometri stai tante ore in sella però ti serve come allenamento per poi affrontare quelle che sono le vere e proprie gare dove parti con altri concorrenti a distanza di un minuto e mezzo tre minuti però poi ci si ritrova chiaramente ci si ritrova nei check point ma lo scopo è arrivare primo chi arriva primo vinci poi fermare anche a dormire il top fermarsi né a dormire né a mangiare cioè praticamente vivi sulla sella mangi in sella accumuli accumuli riposi in sella e vai avanti gestendo la navigazione perché tu non sa non è il percorso tracciato abbiamo un gps che in linea di massima ci fa capire qual è la strada che dobbiamo seguire più che linea di massima è linea molto precisa quindi se vai in fuori rotta devi anche girare e tornare sulla strada da dove sei uscito hai detto devo dogliere tempo alla famiglia e al lavoro so che la tua compagna insomma ti dà una grande mano in entrambe nello sport e nel lavoro assolutamente la mia tiposa numero uno è parentesi quindi non potrei poter fare questo sport se non ci fosse lei nonché poi nella mia è la mia preparatrice anche nutrizionale mi segue in tutto è appassionata e nulla anche da togliere a mio padre che è colui che mi segue con l'auto quando faccio però l'hai battuto in questo sarà sarà segnato per sempre però adesso si è un'ammiraglia quindi va bene vincenzo invece con te voglio tornare su ciò che proporrete entriamo nel nel dettaglio perché c'è una manifestazione a cui non so poi come si partecipa e quindi diciamolo la babbo bike quando c'è e come si partecipa la babbo bike ci sarà il 14 dicembre il ritrovo è presso il palazzo leoni al campo scuola e chiaramente bisogna essere dotati di bicicletta casco luci e soprattutto il vestito da babbo natale perché fu un'idea del primo presidente del velino di hotel romano questa della babbo bike cioè un giro che colorasse le vie un giro in bici che colorasse le vie della città a tema peraltro tra l'altro a periodo a tema appunto e che raccogliesse fondi o giochi da donare al reparto di pediatria dell'ospedale e questo è rimasto come mission c'è stato c'è stessi sono state delle evoluzioni fino ad oggi oggi abbiamo grazie anche all'intervento alla collaborazione con altre realtà che sono la coppia centro italia di rieti e l'assessorato all'innovazione tecnologica con l'assessore masotti e l'asma si è creata questa sinergia per cui ci proponiamo di spostare il tiro sul riuso e il riciclo un tema molto sentito molto sentito e quindi raccoglieremo raccoglieremo dei giochi usati sia tradizionali che tecnologici molto bello da donare alla caritas perché il 14 presso la copp ci sarà un evento in cui la caritas fa una raccolta solidale ok quindi questa è la bubble bike ho sempre una curiosità perché poi è tecnica però magari poi ci si ritrova nel tra virgolette in un disagio bisogna essere tesserati con qualcuno oppure ci si può presentare da semplici appassionati questa qui da semplici appassionati bisognerà firmare chiaramente una liberatoria eccetera eccetera ma saremo scortati da una macchina per consentire al gruppo di muoversi in sicurezza e comunque non bisogna essere tesserati in questo caso perché il giro è molto semplice non presenta difficoltà particolari no lo chiedo perché poi per molti sport ad esempio anche la semplice corsa che però di pochi chilometri penso all'atletica bisogna per alcune cose essere tesserati la semplice corsa insomma che promuove magari non so la prevenzione in questo caso abbiamo detto il riuso non bisogna esserlo in questo caso non bisogna esserlo necessariamente poi magari vi appassionate all'Avelino MTB o un'altra società che magari intende partecipare e fa piacere a chi poi riceve il tesseramento però in questo caso non è necessario partecipi Cristian alla bubble bike anche se non sono 600 chilometri ma io la faccio 20 volte non è un problema faccio 20 volte lo stesso giro e va bene lo stesso si no se ci sono ben volentieri io quando posso tutte le manifestazioni del velino sono dentro con tutte le scarpe perché mi piace proprio il gruppo che hanno loro di persone come siamo messi a movimento in città parlo proprio di ciclismo mountain biking cioè al di là poi chiaramente delle varie sfumature delle società e quant'altro però come numeri avete notato una crescita un decremento ci sono molti non so tiratori liberi come come la pensate? guarda io ho iniziato in bici 30 anni fa credo che eravamo 20-25 adesso si contano sulle centinaia gli appassionati di ciclismo proprio centinaia nel senso 200-300 ci sono molti team parliamo di 17 team almeno divisi tra ruote crassi quindi mountain bike e bici da strada di vari livelli chi fa gran fondo chi fa raduni chi è anche il semplice appassionato ma comunque sia è uno sport io lo chiamo invisibile ma è molto presente a livello di ma sull'invisibilità tra poco ne parliamo no Vincenzo che è in continuamento il numero dei ciclisti il problema è che spererei si risolva è che l'ASD quindi l'associazione sportiva diventi un mezzo per praticarlo in sicurezza e soprattutto dia la possibilità di vivere l'associazione certo cioè quindi proposta ma vera e propria squadra più che squadra cioè che fosse un gruppo organizzato per la realizzazione di eventi certo e che strutturi un attimo cioè che non ci siano cani sciolti insomma i tiratori liberi non sono fit alla tua idea questo mi fai capire cioè un'associazione con un gran numero di persone all'interno che viva la realtà sociale può realizzare grandi cose soprattutto per la valorizzazione del territorio e la promozione appunto dello sport certo 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 no dicevo cristiano sull'invisibilità ti do ti do torto nel senso che numeri di media importanti rai giornali gazzetta ma vabbè perché collegata magari al giro ma anche eurosport parlano di tutt'altro come seguito come interesse come non so come proposta anche c'è sempre una maggior seguito soprattutto parlo per esempio di della rai il ciclismo ci si punta moltissimo poi chiaramente su strada magari più su strada che ecco come dite voi le ruote grasse non so questa è la mia la mia visione almeno sui dati e sulle cose che possono sì sì non fraintendere il mio invisibile nel senso che è lo sport che fa più spettatori tu pensa una partita di calcio la possono vedere 80 mila persone una tappa il giro italia trovi milioni anche si sia di persone però a prescindere questo è invisibile nel senso che non abbiamo il nostro campo d'atletica il nostro campo il nostro palazzetto dello sport strada il sentiero il nostro campo è tutto quello che percorribile cioè noi siamo veramente liberi siamo dei fortunati a fare questo sport è invisibile per quello perché una volta che noi siamo passati non c'è traccia di quello che facciamo ma quello che facciamo lo portiamo dentro e sappiamo bene che è uno sport credo che vincenzo mi possa dar ragione che è oltre lo sport è quasi una metafora di vita ciclismo cioè tu puoi giocare a calcio puoi giocare a basket ma non giochi a fare il ciclista ciclista è proprio un modo di essere assolutamente è uno stile di vita perché insomma poi bisogna affrontarlo in una certa in una certa maniera proposito di lasciare traccia l'altro l'altra manifestazione che l'avellino mtb vuole portare all'attenzione dei cittadini sportivi appassionati dei media è quella dedicata ad alessandro salustri alessandro salustri per chi non lo sapesse in un incidente durante un'uscita solitaria si correggimi se sbaglio vincenzo ha avuto un incidente scontrandosi con una con un'automobile era proprio un martedì peraltro lo ricordo personalmente visto che uscivo da questa da questa trasmissione e alessandro ha lasciato i propri cari e gli amici insomma ci ha lasciati quindi gli amici però non lo dimenticano così come non lo dimentica la famiglia e con questa con questo con questo obiettivo hanno indetto un premio un premio un premio sì un premio perché alessandro era un uomo molto era un uomo pieno di vita era un uomo capace di guardare agli altri come hai detto all'inizio tu quando andavamo alle manifestazioni noi rubavamo con gli occhi in particolare lui quando parlavi con alessandro lui parlavi di qualcosa che per programmare un evento un'iniziativa lui non ti guardava mai negli occhi ma non perché avesse timore che lui guardava al futuro e al passato perché cercava di ritrovare quell'elemento che gli ricordasse la situazione che stavamo discutendo per tro per trovare ispirazione il premio si intitola alessandro salustri sport fonte di ispirazione proprio per questo perché lui guardava agli altri cercando ispirazione cercando ispirazione sia per migliorarsi sia per offrire quello che lui aveva visto offrirsi dagli altri è un bello scopo insomma è un bel è una bella cornice è un bel modo è un bel modo di vivere ovviamente quello quello di di alessandro leggo domenica 15 dicembre alle 10 sì come come funziona la cosa c'è un evento convennistico mi pare di capire è un evento convennistico abbiamo invitato stiamo invitando le autorità sia dello sport che le autorità cittadine le autorità politiche come si suol fare e abbiamo individuato quattro figure da meritevoli del premio una è una sd ok che negli anni ha dimostrato di aver realizzato grandi cose cose inimmaginabili di aver rispettato quella mission e che è stata per noi una grande fonte di ispirazione alessandro ce l'aveva sempre sulla sulle labbra questa sd abbiamo individuato due atleti uno un po più maturo e uno giovane sempre nell'ambito delle due ruote sempre per quest'anno l'ambito è quello del ciclismo perché lo conosciamo meglio adesso noi all'interno dell sd velino abbiamo messo su una piccola commissione che si preoccuperà di trovare quelle realtà sportive dello sport in genere ok che siano meritevoli di ricevere il premio sport fonte di ispirazione e allora vincenzo noi ci mettiamo a disposizione per comunicare ricercare qualsiasi cosa insomma possa essere utile al premio perché è veramente è alla prima edizione ma insomma gli auguriamo gli auguriamo di mettersene alle spalle tante e quindi di premiare tante tante persone il ricordo di cristian di alessandro se lo conosceva ma immagino di sì ma assolutamente alessandro c'era sempre a prescindere che ci frequentavamo anche al di fuori della bicicletta l'ultima volta quest'anno a ferragosto anzi è stato il mio sostentamento con un piatto di pasta perché mi stava allenando per fare per preparare le ultrasagli di settembre mi ha fatto assistenza al terminillo con un piatto di pasta però lui era sempre presente o con una parola o proprio di persona il primo everesting ho fatto al terminillo le otto salite per raggiungere appunto lui dicevo prima lui la settima salita è venuto e ha staccato al lavoro è venuto l'ha voluta fare con me siamo stati lì abbiamo chiesto anche compagnia ricordo insomma sì sì ma raccolto il tuo invito c'era e se non poteva esserci fisicamente perché magari eravamo in veneto c'era con i messaggi c'era ma oltre nello sport c'era anche nella vita nella condivisione delle dei problemi c'è una persona veramente che riusciva a donare se stesso in qualsiasi ambito vincenzo se vuoi come vuoi oltre a quello che ci hai detto di alessandro quando pensi alessandro a cosa pensi quello che appena ha detto cristian è verissimo lui era capace di donarsi agli altri lui aveva questa questa voglia di tendere la mano verso chi era in difficoltà nella bicicletta in bicicletta quando hai un problema e rimani solo diventa un grande problema soprattutto se ti trovi nel versante nord del termine certo però lui aveva sempre gli occhi anche dietro verso l'ultimo e spesso e volentieri era lui ad aiutare chi era in difficoltà perché c'era tipo un fiuto non lo so e te lo ritrovavi sempre vicino era sempre pronto a ma anche fuori dalla bicicletta ad aiutare come era capace di farsi notare da tutti cioè dovunque andava alessandro lasciava il segno abbiamo avuto testimonianze di cordoglio ogni dove dove era uno dei 4.500 che partecipavano alla hero a lecce dove era stato in vacanza quindi era una figura che ha lasciato un grande vuoto noi questo vuoto non lo vogliamo colmare perché forse sarebbe difficile sarebbe difficile ma è anche giusto che noi questo vuoto lo continuiamo a guardare per sempre in modo tale certo da ricordarci quello che lui era per noi e lo fate insomma con questo con questo premio e chiaramente col ricordo in tutte le manifestazioni siamo in chiusura però chiaramente mi voglio dedicare un attimo a cristian bianchetti perché è stata una stagione importante e l'ho interrotto su alcuni su alcuni aspetti e voglio guardare alla prossima cristian cosa hai messo in fila in questo 2019 cosa vuoi invece centrare nel 2020 allora questo 2019 ho messo in fila la romagna race che è stato un obiettivo primario perché dopo 70 giorni essere risalito in sella provare a fare una gara di 550 chilometri con 14 mila metri di dislivello è solo che da pazzi obiettivo minimo raggiunto abbiamo vinto la categoria solo men che quella con l'auto al seguito però poi mi sono concentrato l'estate per preparare ecco al meglio degli eventi di settembre che erano i primi di settembre abbiamo avuto proprio la gara di casa la termini si è tra una bellissima gara che partiva proprio dal terminillo attraversando l'unica matrice il gran sasso si riscendeva verso le parti basse dell'abruzzo per tornare al mare risalire andare a scolipiceno al quadro del tronto salire su annorcia tramite forca di presta riscendere annorcia quattro gradi di notte un freddo tutto in bici ricordiamo tutto in bici stai rincando dei posti un po distanti tutto in bici tutto in bici notte per poi andare sul versante della valnerina ritornare da questa parte e riaffrontare la vallonina di notte alle sei di mattina uno spettacolo coperta in 21 ore gara vinta ma l'avevo preparata benissimo e sono stato soddisfatto perché appunto era la gara di casa con una delle di ben blasonati e poi ho voluto provare questa esperienza della 24 ore quella di treviso dove ti dicevo è stata snervante perché se fai veramente a sportellate anche lì bella esperienza senza assistenza mi dovevo fermare box per fare rifornimento i miei avversari avevano magari la crew passava mano tesa perdevo 20 30 secondi a giro ma poi arrivato un mio amico da forlì alla quattordicesima ora per farmi prendere vantaggio che si fa anche da fuori e con quella gara mi sono riuscito anche ad assicurare la classifica generale del challenger del 2019 delle gare di ultrasaking in italia sono le premiazioni credo proprio il 7 dicembre facci sapere a treviso non potrò andare però so che ho vinto per qualche punto sono il primo di questo 2019 quindi è un buon esordio nel senso prime quattro gare quattro vittorie è un bel poker quindi ci sono gli occhi puntati addosso che vorrei cercare di scrollare subito perché perché mettono ansia mettono molta ansia credimi perché tutti mi stanno dicendo cosa farà il prossimo anno cosa farà il prossimo anno io te lo chiedo come obiettivo poi scelte tecniche le fai tu navico a vista da musiciclista perché darò anche precedenza agli appuntamenti musicali però una cosa che vorrei fare è partecipare alla gara che mi ha dato ispirazione per entrare in questo mondo che è la rissa cross italy praticamente si parte da pescara si torna si parte dall adriatico si arriva sul tirreno e si ritorna sull'adriatico dopo 770 un adriatico tirreno adriatico esatto però dopo 770 chilometri e qualche qualche metro di dislivello in più rispetto alle gare dei prof che poi prof tra parentesi quando sanno che facciamo queste cose ma chi ve lo fa fare e ancora ci dobbiamo dare una risposta quindi il 2020 sarà così ti do un'anticipazione credo che con vincenzo la possiamo dare si guardano una settimana dopo quello che è successo ad alessandro io ero in ballonina sì in un allenamento e una cosa che mi faceva riflettere erano otto giorni che pensavo ai suoi post su facebook lui ha lasciato dei post su facebook come se la sua anima sapesse il suo subconscio trascrivesse dei messaggi di conforto a chi sarebbe restato io non so quel giorno in ballonina autunno era la sua montagna quindi il pensiero era ci è andato per forza no totalmente fisso ma credo che sono 45 giorni che pensiamo a questi tutti i giorni si è nata una melodia è nata anche in un ritornello e il testo è nato da lui sono i suoi post quindi a breve ti diamo questa anticipazione stiamo finendo delle cose perché vogliamo proprio far capire che questa canzone è scritta da lui si chiamerà il mio messaggio e a breve credo che la potremo far daremo spazio daremo spazio questo ci fa ci fa piacere perché credo che sia un messaggio che lui c'è una saggezza in quei post che io praticamente ho solo unito il puzzle e sono convinto che la melodia e il testo me l'abbia messo lui in ballonina mentre pedalavamo insieme io ero da solo ma ero quel giorno ero veramente in trance addirittura con il cellulare scarico quindi non potevo neanche neanche essere certo melodia sono arrivato a pian de valle ho preso il primo che aveva un cellulare ho registrato e mi ho mandato un whatsapp per prendere quegli appunti sono tornato a casa in dieci minuti è uscita fuori questa canzone anche lui era un musiciclista mi piace questo paragone tra musica e ciclismo che sono proprio le mie due passioni ma sono forse i due lati dell'anima uno dove ti sfoghi fisicamente uno dove ti sfoghi a livello mentale sì una è la valvola di sfogo dell'altra mi piace definirla così anche alessandro cantava come ci potevamo radunare ti ricordi benissimo le nostre schitarrate con lui sempre protagonista perché lui è anche un attore lui diceva poi lui era un fenomeno perché diceva sempre le cose serie in maniera scherzosa ma quelle erano ma sì quelle e quindi ricordo su questo pezzo sul mio messaggio arriverà a tutti diamo spazio così come daremo spazio ovviamente alla presentazione degli eventi del verino mtb inchiusurissima vincenzo chiedo se abbiamo dimenticato qualcosa no con alessandro volevo segnalare un evento che è partito da alessandro e da me stavamo sotto casa mia che si chiama graziella dei ed è questo lo spirito col quale noi affrontiamo il ciclismo perché non saliamo a terminillo con la graziella mi disse alessandro bella impresa io lo guardai gli dissi va bene facciamo fra 15 giorni il tempo di mettere a posto la bicicletta che ho in garage e la facciamo e questo è il terzo anno il 2019 è stato che si è tenuto il graziella dei questo è il nostro spirito si chiude la manifestazione con una bellissima braciolata a bordo di un prato tra il vintage e lo sport soprattutto l'impresa perché insomma ma ci sono marce non c'è niente quando lo fai quando lo fai con gli amici diventa tutto molto più semplice si trasforma in una grandissima risata è vero così usare la guglia via perché poi alla fine il ciclismo praticato ai nostri livelli deve essere uno sport che unisce sì che dividere molte volte ci sono le rivalità agonistiche ci sono è anche nella nostra città e a me dispiace profondamente perché ripeto preferirei smettere di andare in bici che litigare con una persona per quello che riguarda le due ruote quindi deve essere tutto vissuto in modo poliardico e io il prossimo anno voglio essere parte integrante del velino farò sicuramente la tessera del velino perché c'è una cogliardia pazzesca e voglio essere dei loro bene 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 almeno abbiamo trovato un altro tesserato un buon tesserato un illustre allora siamo in chiusura di trasmissione prima di salutare e ringraziare tutti sto guardando mi vedete un po distratto perché sto cercando anche di guardare gli aggiornamenti del real real rieti peraltro il real per alessandro insomma era una realtà conosciuta e a cui era vicino real rieti camedosson uno a uno la partita è iniziata veramente da 20 minuti ma in realtà non sono neanche effettivi quindi saremo neanche al al decimo effettivo uno a uno il risultato in questo momento chiaramente vi daremo gli aggiornamenti sul nostro sito è andato in vantaggio il real confortino è arrivato il pareggio poi degli ospiti piccolissimo aggiornamento su rieti su rieti calcio se insomma il lavoro adesso è per pagare gli steward per arrivare domenica la partita dunque giocarla altrimenti rieti escluso se non gioca questa questa partita dunque bisogna saldare con gli steward mettere tutto in regola la partita si deve giocare dunque a porte aperte dopo aver pagato gli stipendi ai giocatori è tornato un po di sereno soprattutto dopo il ritorno di riccardo curci speriamo che rieti insomma possa navigare un po più un po più tranquillo di quello che ci ha fatto vedere nell'ultimo mese che è stato un mese abbastanza duro per tutti chiudiamo qui ringrazio vincenzo amaru velino mtb rieti grazie grazie a disposizione e bocca al lupo per tutto per le attività e per e per le per le manifestazioni e le gare grazie a cristian bianchetti grazie a voi spazio non c'è c'è sempre poco tempo per parlare per parlare con gli ospiti ma è stata una bella puntata ringrazio luciano mancini per la pazienza e la disponibilità ringrazio voi per averci seguito domani il salotto di simona giovedì la rana nel pozzo con l'approfondimento politico venerdì torniamo con tu che ne pensi rieti life tv non si ferma così come non si ferma mai il nostro sito rieti life.com un abbraccio buona serata